Ecco che la macchina si muove I sei partecipanti vanno ad allinearsi Nervi, Novi, Bad SM, Nobel OR, Niborg dei Fiori, Nolingo e Nichelors Mancano 300 metri al punto dello stacco Pian pianino l'allineamento si va a formare 7.000 euro giocati, 2, ovvero sia la pari Nichelors 2,69, Novi, Bad SM, 3,60, Niborg dei Fiori 3 cavalli giocati, 8, Nobel OR, 50, Nolingo, 80, Nervi Non è allineato Nolingo Che una ventina di metri indietro si scosta anche Nervi Si ritrae Nichelors Rimangono solo in 3 a staccare Allo stacco e di galoppo Niborg dei Fiori Novi, Bad SM non deve nemmeno strappare Battistrada nei confronti di Nobel OR che si accoda Terza posizione per Nervi che ha di fianco Nichelors Galoppa anche Nobel OR e così Novi, Bad con strappo, non strappo in 14,6 E leader nei confronti di Nervi che è rientrato Nichelors Che è andato a sistemarsi in terza posizione Al comando la contro favorita Novi, Bad SM, 3 al totalizzatore Secondo l'outsider Nervi, 116 al totalizzatore Terzo il favorito, Nichelors, 1,69 al totalizzatore 34 i primi 400 metri Novi, Bad, Nervi, Nichelors, Nolingo e il rimesso Niborg dei Fiori Novi, Bad fa l'andatura che preferisce Patizzo ancora scendi parziali da distribuire 46,2,600, 31,7 dopo lo strappo Viene di fuori Nichelors Anche perché Nervi ha problemi di impiego E così, Nichelors e Enrico Bellessi sistemano secondi Nella scia di Novi, Bad SM Metà gara tattica In 1,1,9, 31,6 secondi, 4 Novi, Bad e Nichelors Quindi Nolingo che si avvicina E portato sotto Niborg dei Fiori Finisce la seconda curva, si va di fronte ai tribuni 700 si arriva a casa, anche un po' meno Il chilometro di Novi, Bad Se ne è andato in 1,17,4 31,1 ancora tattico dal palometraetto opposta Naomi e Nibel Sempre alle prese I due più attesi All'imbocco dell'ultima curva Divisi da mezza lunghezza Naobi precede i Nichel Il 400 in accelerazione Se ne vanno in 30 spaccato 1,31,9, tre quarti di miglio Con Nichel che attacca Naomi Che prova a ribattere I due nettamente avanti A Niborg dei Fiori Che ha recuperato parecchio terreno Si va verso l'ingresso della retta d'arrivo Con Nichel che insiste Naomi che si difende di dentro Ecco la retta Con Naomi alla corda Nichel a largo Nichel che attacca Naomi Due sempre vicini Nichel sta passando Su Naomi Bad Nichel Ors viene a rifinire Un debutto eccellente Vince a tirare indietro Con Enrico Belei che guarda il tabellone Due avanti a Naomi Bad SM Al terzo un valido Niborg dei Fiori 28,9 arrivare Due minuti e nove decimi Il tempo totale Uno quindice e mezzo Ma grande impressione Per Nichel Ors Enrico Belei Il training di Olga Rehler I colori della San Giuliano 1,69 al totalizzatore Il training di Olga Bad